Lo sai che puoi condurre un'unità da di porto fino a 24 metri senza patente nautica? Proprio così, hai capito benissimo e se rimani fino alla fine del video, vediamo insieme quando e come è possibile. Ok, let's go! Ciao, sono il capitano Giuseppe Cracchione e oggi ti svero la legge che regola l'obbligo della patente nautica. L'articolo 39 del codice ci dice che la patente nautica non è obbligatoria per un'unità da di porto fino a 24 metri di lunghezza e che navigano entro 6 miglia dalla costa. Quando a bordo si è installato uno o più motori che complessivamente abbiano una potenza non superiore a 30 kW o a 40.8 CV. Mentre chi assume il comando di unità superiore a 24 metri deve essere in possesso di una patente come la mia per navi da di porto. Quindi per la condotta di un'unità da di porto con le caratteristiche già citate e senza l'obbligo di patente nautica l'unico requisito è aver compiuto 16 anni di età per i natanti e 18 per le imbarcazioni. Purtroppo tutto questo ancora per poco a seguito dell'istituzione della patente nautica di categoria D e D1 che porterà inevitabilmente tutti ad avere la patente nautica per andare in barca. Cosa aspetti a prendere la tua patente? E non dimenticare di mettere like e di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.